e la drogato o drogata di salute ti senti insicuro o insicura a causa dell'età ultimamente è una seccatura per tutti ma per gli uomini in particolare l'invecchiamento potrebbe significare perdita di capelli meno energia in palestra e aumento di peso parliamo dei 7 alimenti che rallentano il processo di invecchiamento l'avocado può fare la magia e i pomodori magari una tazza di tè verde al giorno parliamo di tutti questi cibi e non solo cominciamo 1 avocado si tratta di un alimento salutare che pochi uomini devono ancora essere convinti di provare gli avocado sono deliziosi e possono essere usati praticamente in qualsiasi piatto panino insalata eccetera ma ci sono un sacco di ragioni per gustarli al di là del fatto che sono buoni de santis dice che queste piccole gemme verdi sono un importante fonte di fibra potassio e grassi monoinsaturi che sono associati a un ridotto rischio di malattie cardiache ea miglioramenti del colesterolo nel sangue mangia meno uova e più avocado 2 mirtilli secondo i rapporti ministeriali gli uomini rispondono bene agli antiossidanti sebbene gli scienziati non siano sicuri del perché i mirtilli sembrano avere un effetto anti invecchiamento anni di ricerche scientifiche confermano che i mirtilli sono ricchi di sostanze nutritive che aiutano la produzione di collagene una proteina importante che conferisce elasticità alla pelle perché non metterne una manciata nel tuo yogurt biologico preferito privo di grassi per sovraccaricarne il viso 3 salmone se vuoi aiutare il tuo viso ad apparire più liscio e sano assicurati di includere il salmone nella tua dieta settimanale questo perché il salmone è un alimento ricco di proteine e di grassi omega 3 questi grassi sono fondamentali per la pelle perché aiutano a mantenere il viso idratato e favoriscono l'assorbimento dell'acqua a parte questo il salmone è anche noto per aiutare a prevenire le malattie cardiache 4 olio d'oliva che tu ci creda o no l'olio d'oliva può aiutarti a sembrare più giovane secondo numerosi studi l'olio extravergine di oliva aiuta a ridurre i livelli di colesterolo cattivo ldl e a pompare il colesterolo buono hdl ti stai chiedendo come questo possa influire sulla pelle beh è emerso che se il tuo ldl troppo alto puoi sviluppare delle protuberanze che ti faranno avere il temuto look da persona anziana si chiamano sant'omi e sicuramente non li desideri 5 pomodori ecco perché vorrà includere i pomodori nella tua dieta in primo luogo questo frutto è noto per respingere i batteri dannosi per la pelle in secondo luogo i pomodori contengono anche potenti antiossidanti che proteggono lo strato dermico primario dai raggi nocivi del sole per tua informazione i dermatologi sono d'accordo da tempo sul fatto che la sovraesposizione al sole può causare l'invecchiamento precoce peggio ancora troppe ore all'aperto senza protezione possono anche stimolare i melanomi cancerogeni quindi oltre a indossare la protezione solare assicurati di includere i pomodori nella tua dieta in questo modo aiuterà il tuo corpo a difendersi naturalmente dai dannosi raggi uvi 6 ostriche quello che è conosciuto come un alimento afrodisiaco o un alimento destinato a stimolare la tua eccitazione sessuale in realtà ha effetti miracolosi anti invecchiamento le ostriche sono la forma di zinco più concentrata in natura un nutriente indispensabile per il mantenimento del collagene che conserva la pelle soda lo zinco svolge anche un ruolo importante nel processo di rinnovamento delle cellule della pelle se non sei appassionato o appassionata di ostriche dovresti allora provare a consumare il tacchino perché anche questa carne è ricca di zinco 7 noci del brasile le noci del brasile hanno una serie di vantaggi eccezionali uno di questi è la loro proprietà anti invecchiamento le noci del brasile hanno il più alto contenuto di selenio di tutti gli alimenti il che è un bene perché questo antiossidante inibisce l'invecchiamento proteggendo l'elasticità della pelle e invertendo i danni del sole le noci del brasile sono ora relativamente facili da trovare e possono essere mangiate da sole o aggiunte a un'insalata 8 tè verde il tè verde è stato a lungo pubblicizzato come la bevanda a base di erbe che non solo aiuta a rafforzare il tuo metabolismo ma anche a farti sembrare più giovane è una ricca fonte di un composto chiamato polifenoli di catechina che funziona armoniosamente con altre sostanze chimiche del corpo per farti sembrare più giovane consumi qualcuno di questi alimenti prenderesti in considerazione l'idea di provarli dopo aver sentito parlare dei loro benefici anti invecchiamento se ti è piaciuto questo video metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici